ed eccoci arrivati buonasera buonasera e siamo qui per fare un annuncio tanto importante molto 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 importante siamo qui Mauriziano e eeeh come stai già chiamato? Mr. Gagaberd? no ormai Mr. Gagaberd è il paleolitico chi lo vuol vedere c'è Youtube il resto è un uomo cagliato Mr. Gagaberd non c'è più è paleolitico è morto c'è Tiziano e Mauriziano è fantastico bello in particolare ma siamo qui per annunciare ragazzi niente po' di meno che il terzo video terzo siamo arrivati siamo arrivati anche a fare dopo applaus c'è let me answer tu si chiama let me answer che vuol dire vi intratteniremo e come vi intratteniamo noi però il bello di questo video è che grazie a Dio chi c'è noi non ci siamo non ci siamo ma ci siete voi ci sono tutti i nostri amici di Facebook tutti tutti quelli che ci hanno fatto in video per partecipare a questa idea da parte tutti questi orsi bellocci simpatici si sono prestati a un gioco sì una cosa molto carina abbiamo ragazzi davvero da tutto il mondo tipo José del Messico Marlissera da Spagna e tipo anche Peter la sede del piano di sotto di casa mia la salmiera insomma Peter da Bacchia del Cono poi c'è tipo l'amizia cioè c'è tutto però tutto questo il terzo video esce tipo fra due o tre giorni stasera lo guardiamo c'è l'anteprima e poi non ci vogliamo scordare di ringraziare il regista di questo video vero? il regista di tutti e tre i video e che ci continuo a sopportare il caro Francesco Prosperi Prosperi Gliobi si poteva dire applausi Francesco Prosperi applausi applausi si tembattisciare la notizia va sì e mentre aspettiamo il terzo video che noi abbiamo la prima visione stasera noi due però chi ci può vedere dai video perché siamo così belli così bravi così intelligenti interessanti e ricordiamo che sabato questo sabato siamo a Verona al Bear Romance poi la torata Matt e Bear e se non sei Master e non sei Bear puoi entrare comunque perché noi siamo aperti quando ci fanno entra a noi se ci fanno entra a noi fanno entra a noi però diciamo dai quando siamo in qualche festa in Italia diventa la festa più cool nonostante dalle altre parti molto cool molto cool devo dire quindi dai spicciolo spicciolo vi aspettiamo sabato 10 10 maggio Dea Romeos Verona terzo video cosa faranno la faccio l'afa a questo giro o la polenta la faccio io a farlo di lasagna non è possibile mettere la torta di nonno Bear allora sabato 10 maggio Bear Romance Verona serata Master Bear artiziano mauriziano i DJ mezzo e mezzo mezzo e mezzo mezzo e mezzo mezzo e mezzo vabbò comunque aiuto e terzo video con voi non c'è lui non c'è lui no io ci sono per te per te Grazie.